Oggi proponiamo in vendita questa interessante opportunità di investimento costituita da un monolocale ubicato a Roma, zona Garbatella, esattamente in piazza Eugenio Biffi. All'interno di una palazzina degli anni 60 dotata di ascensore e servizio di portineria è ubicato l'appartamento di circa 35 metri quadri, composto da un ingresso una camera utilizzabile sia come camera da letto sia come soggiorno e un bagno con sinestra Un'acusia un'acusia inabitabile L'immobile è in buono stato di manutenzione e può essere adibito all'investimento per uso e locazione non è dotato di balcone né di alcuna pertinenza un'acusia in buono stato di solito Abbiamo visitato questo interessante appartamento che costituisce una vera e propria opportunità di investimento e vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.lrmobiliareroma.it e tutti i nostri canali social per guardare le foto, le planimetrie e il video LR Immobiliare, la tua casa in buone mani